È un libro sul dolore, sulla sofferenza, sul male, nelle sue varie manifestazioni e dunque mi piaceva provare ad indagare questo aspetto della nostra vita che molto spesso non viene efficacemente narrato, raccontato, attraverso gli occhi e lo sguardo di un vecchio pescatore arrivato alla fine della sua vita, che ha un senso di colpa molto grande da scontare. L'ho vissuto come tutti, con preoccupazione, con ansia da un certo punto di vista, ma dall'altro l'ho vissuto anche come un'occasione per recuperare forse un po' di tranquillità e di pace, un po' di ritmi più lenti di cui molto spesso sentiamo la mancanza. Me ne immagino come difficili innanzitutto per l'accumularsi di tante novità, di titoli nuovi che forse mi rettirebbero più spazio, più attenzione, però penso che comunque gli autori e le opere che meritano questa attenzione in qualche modo riusciranno a trovare la loro strada.